Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a questo consiglio comunale in ricordo di Arnaldo Forlani. Possiamo iniziare, come sapete, è un periodo, è un mese, devo dire, è stato molto difficile e quest'oggi insieme alla figura del Presidente Forlani ci tengo e vi chiedo di ricordare anche delle figure molto importanti, altrettanto importanti per la nostra città, Ilaro Barbanti, già Vice Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale che abbiamo salutato per l'ultima volta oggi e il Consigliere Roberto Biagiotti che abbiamo salutato l'ultima volta qualche settimana fa. Io penso che le figure politiche, prima dei ruoli, prima delle istituzioni ci siano le persone e quindi qui siamo oggi chiamati anche a ricoprire questo importante responsabilità di ricordare le persone e le loro famiglie. Prima di ringraziare passare al momento selene vi invito insieme a me a fare un minuto di silenzio prima di del Consiglio Comunale. Grazie. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro ufficialmente aperto il Consiglio Comunale di Pesaro, in ricordo di Arnaldo Forlani. Solo qualche precisazione per l'ordine dei lavori, prima chiaramente dei saluti e dei ringraziamenti. Iniziamo con qualche minuto di ritardo, scusandomi anche anticipatamente per i problemi logistici che questa sala ci consente e ci propone, ma questa sala ha un valore fortemente simbolico per la giornata che abbiamo organizzato oggi, in quanto il Presidente Forlani nel 1980 ha riaperto dopo tanti anni di lavori il Teatro Rossini. Questo ci ha permesso, ringraziando anche l'impegno della Giunta e del Vice Sindaco Vimini oggi di fare questa bella iniziativa all'interno della Sala della Repubblica del Teatro Rossini di Pesaro. Ringrazio chiaramente il Sindaco con cui abbiamo organizzato questa iniziativa e ringrazio, partendo dai ringraziamenti, gli ospiti di questo Consiglio Comunale, il Senatore Pierferdinando Casini, Senatore della Repubblica con cui potremmo fare un'opera di testimonianza, di ricordo e chiaramente di passaggi rispetto alla figura di Arnaldo Forlani, non solo il ruolo, non solo la politica, come dicevo prima. Proseguiremo poi con il Dottor Giorgio Girelli, coordinatore del Centro Studi Sociali Alcide De Gasperi, con cui chiaramente potremmo fare un percorso, anche fatto di aneddoti, di storie, di racconti, questioni che sicuramente anche che la capacità di ricordo, conoscenza e trasmissione ci permettono di fare verso queste figure, ma che anche il mio limite anagrafico fino adesso non mi ha consentito di fare. E chiaramente ci saranno gli interventi dei consiglieri comunali che ringrazio per la loro presenza con cui concluderemo il pomeriggio. Questo è un pomeriggio importante, la figura di Arnaldo Forlani è stata grazie appunto ai ricordi e alle testimonianze del sindaco Giorgio Tornati che mi ha permesso di riproporre queste iniziative e qualche aneddoto che mi ha permesso di sapere che questa sala, questo teatro, è stato inaugurato anche la presenza del presidente Arnaldo Forlani, mi permette appunto di portare avanti questo bel pomeriggio. Ringrazio la presenza dei familiari, ringrazio Alessandro Forlani per ringraziare chiaramente tutta la famiglia presente, ci sono stati scambi in queste settimane che mi hanno permesso anche di contattare tutti. Sono onorato di aprire questo pomeriggio che proseguirà con una messa in duomo a suffragio di Arnaldo Forlani alle 18.30. Sempre per ordine lavori è un po' il mio ruolo, è anche questo il mio ruolo, quello di ricordarvi di cercare di stare nei tempi, vorrei cercare di concludere questo pomeriggio attorno alle 18 così da permetterci il proseguimento del programma della giornata. Io quindi invito il sindaco Matteo Ricci ad aprire questo inizio di interventi e proseguiremo quindi con il dottor Girelli. Prego sindaco. Grazie Presidente, grazie per aver convocato questo consiglio straordinario in onore di Arnaldo Forlani, saluto la famiglia che è qua, che ha accettato il nostro invito, i figli in particolar modo e tutta la famiglia. Ringrazio l'amico Pioferdinando Casini che non solo ha accettato da subito l'invito ma ci ha aiutato anche in qualche modo a collaborare, collaborando nell'organizzazione di questo evento e ovviamente il dottor Girelli che conosciamo molto bene. Io non ho avuto la fortuna personale di conoscere Forlani, l'ho conosciuto come tanti di voi vedendo in tv, leggendo nei giornali la statura di un grande leader politico. Un leader politico nato e cresciuto in questa città che ha vissuto profondamente anche questa città nei suoi ambiti sociali, negli ambiti sportivi. Mi dicono che fosse un bel mediano, una bella mezzala nella Vispesaro e poi ha seguito un iter politico che io invidio molto nell'era politica nella quale viviamo perché ha seguito un iter politico vero. Era un politico con la P maiuscola, con il percorso fatto di studio, di impegno, di crescita all'interno di partiti che all'epoca erano vere e proprie strutture in grado di formare e di cogliere il talento dei migliori facendoli crescere. Ed è stato sicuramente per la nostra città il politico più importante mai avuto, senza ombre di dubbio. È stato un uomo potente, molto potente, un uomo che ha guidato la democrazia cristiana, che ha guidato il governo, la democrazia cristiana per ben due volte. Ed è stato però, mentre aveva ovviamente la testa e il corpo impegnati in tanti contesti nazionali e internazionali, contesti nazionali anche di grandi difficoltà, pensiamo a tutto il periodo del terrorismo, delle Brigate Rosse, uno dei momenti nei quali comunque aveva massimi ruoli all'interno del partito e del governo. Mai però ha dimenticato la sua città, magari senza metterlo in evidenza troppo, senza prendersi troppi meriti. C'è il suo zampino in tante questioni che riguardano questa città e questa provincia. Marco prima ricordava il teatro, in questi giorni si riparla molto della Fano Grosseto. Abbiamo svolto un'edizione del Rossini Opera Festival straordinaria. Ma se il Rossini Opera Festival è ciò che è, è perché nel 1980, nonostante fosse proposto da un'amministrazione comunale comunista, comunisti e socialisti, vedi in Forlani un grande sostenitore nella capacità poi di avere in Parlamento una legge in grado di finanziarlo. Penso al nostro entroterra, al quale era molto legato, molto legato al nostro entroterra. Ci sono anche delle persone che non so se sono riuscite ad entrare, molto legate a lui e quindi, come dire, pur avendo un profilo nazionale, internazionale, di un vero e proprio statista politico, ha sempre mantenuto relazioni, legami con la nostra città, con la nostra provincia. Ed è curioso come si è emerso da questo territorio, da un consiglio comunale nel quale lui è sempre stato minoranza. Una figura e un talento politico di questo tipo. Questa non era un luogo, diciamo, tipico o un luogo, diciamo, di maggioranza democristiana. Non era il Veneto, non erano alcune parti della Lombardia, non erano alcune parti del sud Italia. Eppure, nonostante questo, come dire, partendo dal consigliere comunale d'opposizione, è diventato una delle persone più importanti della politica italiana per almeno 30 anni, perché alla fine stiamo parlando di quasi 30 anni. E quindi è giusto, è sacrosanto oggi svolgere questo consiglio comunale, per ricordarlo. È in qualche modo un gesto anche a tutti coloro che lo hanno conosciuto in questa città, che hanno militato nella democrazia cristiana, che hanno creduto in lui, che hanno sposato le sue tesi politiche, il suo moderatismo, la sua volontà. Qualcuno mi diceva, un giornalista del Carlino oggi mi ha detto, lui era come nel campo, era sempre al centro del centro. Provava sempre ad essere al centro del centro. E quindi è importante per queste persone ricordarlo, dopo la sua scomparsa, ma è importante anche per la nostra città, perché dobbiamo ricordarlo, riconoscergli un grande amore per questa città che ha sempre portato nel cuore e al tempo stesso il sostegno che ha dato negli anni a questo territorio che amiamo così tanto. Quindi grazie ancora per essere qua. Ovviamente le testimonianze le abbiamo lasciate a coloro che l'hanno conosciuto meglio nel profondo, che conoscono gli aneddoti, la storia politica molto meglio di noi, però credo che abbiamo fatto benissimo, ha fatto bene il Presidente del Consiglio e tutti i consiglieri che sono qua a dedicare un consiglio comunale al politico più forte e in assoluto più importante che la Regione Marche abbia avuto nella sua storia. Grazie ancora. Prego, Dottor Girelli. Rinnovo innanzitutto espressioni di profondo cordoglio e familiare di Arnaldo Forlani e rivolgo il mio compiacimento al Comune di Pesaro per l'organizzazione di questo incontro volto a ricordare e donorare lo statista pesarese che, come hanno scritto il Sindaco Matteo Ricci ed il Presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini, ha lasciato un solco profondo nel contesto istituzionale italiano. Convinto credente, come emerge anche da un'intervista di qualche tempo fa rilasciata a Milina Gabanelli, Forlani teneva ben distinte le sfere della religione da quelle della politica, tanto che nel corso degli anni più volte adombrò la inopportunità del termine cristiana per il suo partito, ritenendolo troppo impegnativo per un mondo, quello della politica, terreno della competizione e della concorrenzialità, dove, egli diceva, le malattie sono sempre presenti. Salvo però non concordare quando la denominazione fu davvero cambiata in Partito Popolare, quale conseguenza delle cosiddette mani pulite, gli appariva un'imposizione del momento che assumeva la veste di una smentita di tutta la positiva azione della democrazia cristiana nel corso della storia della cosiddetta Prima Repubblica. Il rifiuto della strumentalizzazione della religione a fini politici si manifestò anche in occasione del referendum sul divorzio, rispetto al quale aveva posizioni coincidenti con quelle di Carlo Bo, val dire che sarebbe stato meglio evitarlo. E quando proprio il giorno del risultato, durante ogni uno di democristiani qui a Pesaro, presso la sede della gioventù italiana, lo raggiunse verso l'ora 16 una telefonata del deluso Fanfani, fu signorilmente comprensivo con il leader sconfitto, pur ribadendo che su certi temi non è consigliabile lo scontro politico. Conseguentemente non ricercava contatti con le altre gerarchie. Per anni, nel corso della collaborazione con lui ha avuto, specie quando è stato segretario politico, il riscontro di contatti ad alto livello era frequente, incluse la visita della coppia Agnelli-Cesare-Romiti. Gli incontri con un nome di chiesa, però, si limitavano a qualche parroco che veniva per orare le cause della propria comunità. Frequentava d'estate Piobbico il cardinale Palazzini, più però come conterraneo che come gerarchia vaticana. Il suo significativo apporto comunque alla revisione dei patti laterenzi, con l'assistenza del capogabinetto e il compianto consigliere di Stato, Ugo Gasparri, già direttore generale per gli affari di Gulto, è più che noto. E quando ne aveva la possibilità non mancava il suo sostegno alla chiesa locale, allorché risarcito dalla magistratura con 10 milioni di lire per un'accusa ingiusta rivoltagli da un argolo di stampa, devolse l'intero importo all'istituto suo remissario della fanciulezza per le loro opere benefiche. I rapporti con la diocesi pesarese furono sempre sereni, incluso il vescovo Borromeo, che non mancava di polemiche verso Venturi e Sabatini. Non accettava egli la loro apertura sinistra, perché i cattolici mi disse, esponendomi alla sua soggettiva valutazione, possono allearsi anche con il diavolo, ma questi di oggi non sono abbastanza forti per mettersi con i socialisti. Forlani, pur a capo insieme ad altri leader di Cidi quella linea, schivò a quanto mi risulta contrasti diretti. Sereno e garbato dunque, ma non cedevole, quando un alto operato del sud delle Marche venne duramente attaccato per la linea politica che egli sosteneva, non esitò a replicargli. Credevo di trovare nell'arcivescovo un pastore, non un lupo. Delle responsabilità governative elevatissime e del forte ruolo esercitato nella DC e nel progresso del Paese, incluse il consolidamento della democrazia, non sempre al sicuro negli anni del suo impegno, avremo il piacere di ascoltare l'amico Presidente Pio Ferdinando Casini, cui esprimo vicinanza ed affetto. E pensare, restando ai miei ricordi di ambito locale, che, come ogni genitore, la mamma, quando egli era agli esordi dei suoi impegni a Roma, manifestava preoccupazione perché ambiva a vedere il figlio sistemato. Da bambino, spedito da mia madre per un acquisto presso il verduraio, lo stesso frequentato dalla signora Forlani, a richiesta di notizie sui figli la sentì esporre valutazioni molto soddisfatte su Romolo, il fratello, già a posto, quale maestro elementare, mentre scuoteva la testa su Arnaldo perché perdeva il tempo con la politica. Anche se le sue capacità lo portarono al successo, pure lui però non vedeva per un giovane traguardi certi nella politica. A me, quando ero studente, ha sempre raccomandato studia, trovati un posto e solo dopo fai politica. Molti anni dopo, in un incontro politico alla tombolina di Loris Farticelli, Loreno Zandri, attuale vice segretario generale della Camera del Commercio delle Marche, capitò a tavola accanto a lui, il quale, appreso che il giovane stava per laurearsi, impartì lo stesso ammonimento. Finiti gli studi, trovati un lavoro, poi occupati di politica. Trova il tempo per dedicarsi anche a buone letture e non erano rare le conversazioni delle quali citava qualche rinomato autore, anche quelli locali. Fu mio testimone di nozze e quando apprese che la futura consorte era nipote di Pina Bocci, avvocato e fine poetessa, lo sentì recitare con mia sorpresa a memoria un'intera poesia della scrittrice, apprezzata peraltro anche da Manara Valgimigli e Carlo Bo. Non trascurava la lirica e il luogo prescelto per questo incontro ne è testimonianza. Fu Forlani, ministro degli esteri, a firmare il primo accordo di cooperazione culturale con la Repubblica Popolare Cinese il 6 ottobre nel 1978, cui seguirono tra l'altro la presenza in Cina di Pavarotti, l'Orchestra di Santa Cecilia, il Tanto di Firenze e, nei tempi attuali tra i tanti, il Rossini Opera Festival e lo stesso Conservatorio Rossini. Fu molto vicino al ROF, del suo sostegno e mi diretta testimonianza per le telefonate che sul tema mi faceva Gianfranco Mariotti al Quirinale, dove svolgevo le funzioni di consigliere parlamentare di Cossiga e ricordo pure quando Mariotti lo volle nell'intervallo di un'opera nel suo palco per rinnovargli i ringraziamenti e offrirgli una cupa di champagne. Un mio estroso compagno di scuola, Enrico Rosio, si adoperò per realizzare un incontro con Renata Tebaldi, che venne accompagnata alla casa di Novilara, dove Forlani era giunto da solo non molto tempo prima, non c'era stato modo quindi di predisporre un'accoglienza adeguata alla grande artista, ma il colloquio procede ugualmente in modo aperto e gradevole, con grande e reciproca spontaneità. Alla fine Forlani disse «Cosa si può offrire a una signora? Certamente una rosa, ma io ho solo questa» e porsse alla Tebaldi una rosa del deserto che arredava il suo salotto. Il bell'aggregato di cristalli fu molto gradito dalla cantante. I toni troppo accesi non appartenevano al suo patrimonio oratorio. In un'intervista al Corriere della Sera del dicembre 1985 sostende «Il vero guaio della politica è la ricerca della teatralità», ma in questo modo tutt'al più si accontentano le esigenze sceniche dei mass media. Sembra il commento a certi talk show di oggi, più propensi ad offrire il ring che elementi di pacata riflessione. E qui devo dire che invece sostengono da queste risse sia il Presidente Casini sia il Sindaco Ricci nei loro interventi televisivi. E questo è l'odevole. E continuava «La DC deve restare una grande forza tranquilla, in grado di assicurare stabilità al Governo e soluzione dei problemi che restano a cuore alla gente». Negli schieramenti opposti vedeva non nemici ma avversari, forze alternative, con le quali confrontarsi con toni pacati. E dal riguardo ricordo che mi trovai ad introdurre un suo comizio in sede di campagna elettorale per elezioni politiche nell'affolatissima piazza del popolo di Pesaro. Usai accenti da ringa, graditi alla folla. Nel corso del suo discorso Forlani mi corresse. Ho udito toni aspri nei confronti dei comunisti, ma non siamo più nel 1948. In ogni modo, però, quando da segretario provinciale della DC chiedevo consiglio circa agli insistenti inviti del Partito Comunista alla partecipazione a manifestazioni sulla resistenza, sulla pace e così via, mi rispondeva «Vai, se ci sono anche i liberali». Fu con lui Ministro degli Estri comunque che venne approvata la risoluzione piccolinatta, con il riconoscimento della politica estera e dell'Alleanza Atlantica da parte dei comunisti. Il Partito Comunista avanzava su un terreno nuovo, anche se non ancora costabile, secondo Forlani, a responsabilità dirette di governo, soprattutto in ragione agli assetti internazionali, come i casi Berlinguer e Moro rimarcavano. E del suo impegno anche su Moro, speso sempre con il consueto consumo e discreto, se ne saprà di più quando saranno disponibili le carte degli archivi di taluni paesi esteri. Vengo infine ad un episodio che non posso tralasciare perché è connesso con i momenti più dolorosi della sua esperienza politica. Era favorevole al finanziamento pubblico dei partiti. A me, giovanissimo, sembrava invece che partiti dovessero essere sostenuti con gli apporti dei propri iscritti. Lui spiegava come quel contributo fosse del tutto insufficiente e che il finanziamento pubblico avrebbe consentito di contestare i comportamenti di chi alimentava contribuzioni illecite. Quindi, nella filosofia del personaggio, non c'era spazio per le tangenti. A me capitò di ricevere da lui un consistente contributo per l'iniziativa della DC in Provincia di Pese Urbino. Alla mia domanda su che avrei dovuto ringraziare, esclamò, ringraziare, ma di qui vengono, di qui, battendo ripetutamente con il palmo della mano la parte dove solitamente viene allocato il portafoglio. Si trattava di quasi la metà della sua indennità parlamentare. Ironia della sorte fu proprio una di quelle contribuzioni improprie a procurargli il più forte di spiegare della sua vita politica. Oggi Piero Sansonetti, comunista, per quasi trent'anni all'Unità di cui è stato vice direttore e poi condirettore, ha riproposto sulla rinata Unità un suo articolo di otto anni fa in cui deplorava che Forlani, mai accusato di avere messo in tasca una sola lira, fosse stato condannato per avere oggettivamente favorito il finanziamento del suo partito. Perché? Perché il Tribunale accettò la formula famosa del non poteva non sapere. Dunque, rileva ancora Sansonetti, non ci sono prove che sapesse. Ed il codice penale prevede condanne solo in presenza di prove certe. Quindi la condanna intervende in base ad una supposizione, nonostante peraltro che lo statuto del partito escludesse ogni competenza del segretario politico in tale materia, della quale doveva occuparsi solo il segretario amministrativo, ora alla sua scomparsa le istituzioni hanno risposto bene al doveroso impegno di rendergli onore e con lui in fondo alla stessa Prima Repubblica di cui gli è stato protagonista e simbolo. Nell'epoca della cosiddetta immagine la sua discrezione non ha reso evidente a tutti il suo operato, mirato sempre a far valere le ragioni della corresponsabilità delle forze politiche verso il Paese, di cui insistiva bisogna risolvere problemi veri. I solenni funerali di Stato e di lutto nazionale sono stati una prima risposta al debito che la Repubblica ha nei suoi confronti, nei confronti di una personalità che ha tanto fatto per l'Italia senza esibizione dematica. Ma sarà la storia a rendergli compiuta testimonianza e merito. Grazie per l'attenzione. Vito ora di intervenire i consiglieri comunali, il consigliere Bellucci del gruppo Partito Democratico che farà un intervento e seguirà la consigliera Marchionni. Un saluto a tutti. Grazie Presidente per la parola. Innanzitutto esprimo compiacimento per aver dedicato questa seduta straordinaria del Consiglio Comunale, per ricordare la figura del nostro concittadino illustre Arnaldo Forlani, penso personaggio politico pesarese più importante. Sono un consigliere comunale, da un anno e mezzo sono anche segretario comunale del Partito Democratico. Io non ho e non voglio toccare l'escursus politico di Forlani, voglio toccare due aspetti che sono vicini alla sensibilità di un consigliere comunale o di una persona che cerca di invogliare alla politica altre persone. Per cui vorrei evidenziare la radice dell'impegno politico di Forlani. Cresciuto nella nostra città, formatosi in età giovanile, nelle file dell'azione cattolica della parrocchia di Loreto. Trova in questo percorso formativo un naturale sbocco ad impegnarsi nel nascente partito della democrazia cristiana. Ho avuto modo di conoscere aspetti biografici di Forlani da alcuni articoli di Ernesto Preziosi, che approfitto per salutarlo perché è qui in sala. Ernesto è direttore del Nuovo Amico e alla scomparsa di Forlani ha fatto un articolo secondo me molto interessante, biografico ma anche con diversi spunti che gliel'ho già chiesti di poterli utilizzare in questo mio intervento. Preziosi ricorda che Forlani gli aveva raccontato l'inizio della passione politica. Aveva sentito parlare di impegno politico dal presidente diocesano di azione cattolica Egno De Biagi, che divenne parlamentare della DC nel 1953. La guerra non era ancora finita e dopo la liberazione si sarebbero create le condizioni per assumersi responsabilità ed impegni personali. Mi sta a cuore, come dicevo, sottolineare il percorso formativo che porta un giovane ad iniziare, non dico la carriera politica, quella viene in seguito grazie alla valorizzazione dei propri talenti, delle proprie capacità individuali, ma porta un giovane ad affacciarsi ad un impegno frutto di quel contesto storico, primissimo dopo guerra, caratterizzato da solidi valori religiosi e da una rinnovata spinta ideale democratica. Ed ecco allora gli studi universitari in legge, l'impegno nel sindacato unitario CGL, ma non c'era la I, perché era il sindacato unitario Confederazione Generale del Lavoro, nella componente cristiana e per un breve periodo, raccontava Preziosi, è stato segretario della Camera del Lavoro, poi la crescita dell'impegno di base politico lo porta a Roma per assumere i ruoli di collaborazione a cominciare dall'ufficio stampa del Ministro dell'Agricoltura Fanfani e poi da lì inizia la sua attività e la sua carriera. Mi sta a cuore quel modello di percorso politico che inizia con un lavoro quasi scolastico, di cui oggi sentiamo un grande bisogno, constatandone il vuoto. La prima Repubblica è fatta da tanti uomini e donne che si sono affacciati all'impegno politico partendo da luoghi di formazione come potevano essere l'azione cattolica e i suoi circoli nelle parrocchie, oppure le case del popolo, o il sindacato, o le cooperative. E la politica non era vista come la carriera o la casta, o il lavoro dei senza lavoro, come si è cominciato purtroppo a rappresentare negli anni 90 con i partiti azienda e i movimenti antisistema. Oggi la crisi della politica, mi permetto di dirlo, credo di essere il consigliero comunale più anziano, per cui in qualche modo ho vissuto quel periodo, oggi la crisi della politica in questo snodo. Se non recuperiamo il valore dell'impegno politico, la dignità dello spendersi per il bene comune e la valorizzazione di luoghi formativi, siamo destinati all'eredità dei percorsi politici e agli slogan senza pensiero. L'altro aspetto che volevo toccare e concludere, l'elemento che mi resta in particolare del ricordo del Presidente Forlani è la sua uscita di scena. Dopo un'intensa attività politica istituzionale, la stagione di Mani Pulite chiude il periodo della cosiddetta Prima Repubblica. Scriveva Preziosi nell'articolo che prima ho citato che il rischio è di ricordare il personaggio politico solo attraverso le immagini mediatiche di un'udienza processuale. Quella lunga stagione politica sarà la storia, come diceva prima il Dottor Girelli, a giudicarla, e abbiamo già visto come alcuni approcci hanno poi impoverito e facilitato proposte politiche senza analisi e senza formazione, talvolta persino superficiali. Arnaldo Forlani vive quella stagione fuori dai fari dell'opinione pubblica. Nel 94 a 69 anni non si ricandida in Parlamento, si ritira dalla vita politica attiva senza pentimenti, censure e svelamento di segreti. Paga il suo conto con la giustizia e, come dicevo, lascia a ciascuno il giudizio su quella stagione e su quel personale politico. Direi un modo marchigiano, concreto e rispettoso per uscire dalla scena pubblica, dopo una vita politica ad alto livello di responsabilità. Sono certo che Pesaro troverà le modalità consone per rendere omaggio e ricordare il suo illustre concittadino. Con l'accordo di tutte le componenti sociali e politiche, proprio per dare un senso storico al ricordo di Arnaldo Forlani, l'uomo che ha improntato la sua vita politica alla moderazione e alla mediazione. Grazie. Grazie consigliere Bellucci, invito per fare l'intervento alla consigliere Giulia Marchionni della lista Prima Cepesaro. Prego. Grazie presidente. Ho scritto anche io qualche parola e cercherò di stare più possibile nei tempi. Per chi come me è nato negli anni in cui Arnaldo Forlani veniva chiamato per la seconda volta alla guida della democrazia cristiana, non è pensabile essere qui oggi e prendere la parola per portare un contributo sul più famoso dei pesaresi, dopo Gioacchino Rossini, se non avessi avuto delle grandi opportunità di conoscere Arnaldo Forlani. La prima risale ai tempi dell'università, quando ho avuto l'occasione di studiare storia, la storia anche più recente, quella che ai più giovani è per lo più oscura, ma che in realtà credo sia molto importante conoscere per capire anche cosa sta accadendo oggi. La seconda occasione di scoprire la figura di Arnaldo Forlani mi è stata data grazie alla possibilità di incontrare la memoria storica di questa città. Tanti cittadini pesaresi e tanti amici di Arnaldo Forlani che in questi mesi, dopo la sua scomparsa, hanno voluto raccontarmi aneddoti e storie. Il terzo elemento che mi permette di essere qui oggi e di prendere la parola senza il timore di dire cose fuori contesto, è stata la possibilità di un confronto diretto con un amico professore storico della politica che mi ha permesso di avere una visione complessiva e totale su Arnaldo Forlani. E allora è facile, iniziando con il dire quello che in molti già hanno detto, e cioè che Arnaldo Forlani era un politico di un altro tempo, un uomo con pregi e con limiti. E mi permetto una battuta sui limiti attraverso un aneddoto che lui stesso ha raccontato e che credo possa anche un po' raccogliere l'attenzione di questo uditorio. Era circa il 1973-1974, eravamo qua a Pesaro, e Arnaldo Forlani si stava recando per salutare l'allora vescovo di Pesaro, Monsignor Borromeo, e l'amministratore apostolico, Monsignor Michetti, per i consueti auguri di Pasqua. E sullo scalone dell'episcopio, quello che conduce appunto nel salone principale, Forlani incontrò Monsignor Aurelio Ferri, un personaggio, definiamolo così particolare, che era stato suo professore al liceo. Trovandosi davanti a Monsignor Ferri, Forlani gli disse Monsignore si ricorda di me? Si ricorda di quella volta che quasi mi colpì in classe con il breviario perché non stavo ad ascoltarla? E il Ferri con aria secca rispose Se ti avessi colpito avrei fatto il bene dell'Italia. Ecco, immaginatevi questo aneddoto raccontato dalle parole dello stesso Forlani. Credo possa racchiudere tanto di quello che Arnaldo Forlani è stato anche nel modo di essere ironico e autoironico. Una dote, credo, necessaria ad ogni buon politico. Vedete, poi alla fine parlando dei limiti si finisce anche a parlare dei pregi. E continuando sulla storia dei pregi, di quest'uomo che ha fatto la storia della nostra città, della nostra regione, della nostra nazione, vorrei raccontarvi un episodio di cui io stessa sono stata protagonista la scorsa estate. Era a fine agosto, un caldo terribile, in piena campagna elettorale, ero candidata al proporzionale alla Camera per cui facevo su e giù nella regione Marche e nel muovermi da Arcevia a Filottrano, insomma, sono rimasta ferma con la macchina. Nell'attesa che mi venisse riconsegnata l'auto, ho provato a cercare dentro Filottrano un ricovero, un ristorante, qualcosa che fosse aperta e mi potesse accogliere. Ho visto una serranda mezza aperta, mi sono affacciata con un po' di invadenza, ho provato a spiegare la mia situazione, insomma, il proprietario ha spalancato le porte, mi ha messo a sedere, mi ha fatto della pizza, insomma, sono stata benissimo. E in quell'ora di tempo alla fine ero in campagna elettorale, quindi ho fatto campagna elettorale anche con un trancio di pizza in mano. E quando il mio interlocutore ha scoperto che venivo da Pesaro, si è fermato e mi ha detto, ma vede Giulia, la verità è che con l'ADC di Forlani a Roma era tutta un'altra storia per noi marchigiani. Le vede le strade qua intorno? Le fece asfaltare lui. Ecco, io credo che in questo racconto, in questa brevissima frase, sia un po' racchiusa la definizione di Forlani che più preferisco. uomo di governo e uomo di partito. L'uomo di governo che a distanza di anni è ancora ricordato nelle nostre marche come la persona illustre che tanto ha fatto per i territori, anche per quelli più lontani dalla costa. Uomo di partito che con la democrazia cristiana ha portato le marche a Roma ed ha riuscito a tenere vivo il valore ideale dello scudo crociato nelle marche che anche nei momenti in cui nel resto d'Italia piano piano perdeva attrattività. Uomo di governo e uomo di partito, segretario della democrazia cristiana e membro del governo, mai insieme. Unica la sua capacità di equilibrio nel riuscire a rispettare il ruolo che in quel momento stava ricoprendo. Due cose mi sono promessa di provare ad imparare dalla figura di Arnaldo Forlani. La prima sulla quale sto lavorando. La capacità di sintesi e la capacità di fare i suoi twitter antelitteram, di dare valore alle parole. Come quando parlando della morte di Aldo Moro non esitò a dire che Moro lo avevano voluto morto i nemici della democrazia. Raccogliendo in quella frase anche i suoi ex amici. O quando rispetto alle stragi di Piazza Fontana disse chiaramente che fu un tentativo eversivo, un colpo di Stato. La seconda cosa che sto cercando di imparare con ancora più fatica è per me una delle migliori doti che un politico possa avere. Tanto autocontrollo, zero agitazione e una preferenza evidente nel vedere arrabbiare gli altri. Ora, andando verso la conclusione di questo mio brevissimo intervento vorrei condividere con voi le parole che Forlani pronunciò nel febbraio del 1989. Appena rieletto segretario politico della DC parlando di Europa disse a 70 anni dall'appello sturziano dei liberi e forti in sintonia con gli altri partiti di ispirazione cristiana dobbiamo promuovere un nuovo messaggio, una direttrice di marcia che porti i popoli d'Europa a rinsaldare i legami con le comuni radici e dall'altro ad affrontare i compiti nuovi che la necessità storica impone all'Europa. Di fronte alla crisi che dalla Polonia all'Ungheria, dalla Cecoslovacchia alla Jugoslavia, dalla stessa Unione Sovietica incrina le basi dell'internazionalismo comunista e classista ed in presenza del rischio che con le nuove ondate migratorie e i popoli della nostra Europa vengano attraversati da pericolose tendenze di chiusura nazionalistica, l'ideale federalistico rappresenta oggi più che mai la prospettiva vera e la speranza dell'impegno creativo soprattutto per i giovani. Parole queste pronunciate nel 1989 che oggi possiamo dire essere state capaci di anticipare fatti culturali e politici con precisione oserei dire quasi inquietante. Grazie. Grazie consigliera, lascio la parola per intervento al consigliere Stefano Mariani del gruppo consigliere Il Faro. Prego. Grazie. Intanto un saluto a tutti, ruberò solo pochi minuti. In questo intervento voglio legarlo a un fatto personale. Io conobbi Arnaldo Forlani perché me lo presentò, facevo il liceo scientifico quindi circa 230 anni fa, me lo presentò Alberto Bencivenni, proprio nella sede della DC qui a Pesaro. e io ero un giovane insomma pieno di iniziative quindi con la parola fluente perché insomma preso dal grande entusiasmo e in quel breve incontro mi osservò, ci confrontammo su alcune cose e mi disse sempre una cosa, la politica va fatta pensando quindi prima di potersi esprimere bisogna valutare, pensare, riflettere e poi elaborare. Alcune volte, presi dall'entusiasmo, significa esporre pensieri che possono anche non essere giusti perché per poter esprimere i pensieri giusti bisogna valutare nell'argomento che si tratta una serie di opportunità e di argomenti e quindi con questo ricordo personale sarebbe bene che anche oggi, chiaramente ai più alti livelli dai più bassi ai più alti della politica alcune volte prima di esprimere sull'onda d'entusiasmo alcuni pensieri, si si riflettesse, si valutassero si metabolizzassero e poi si cominciasse a esprimere quella che è una propria idea politica o di futuro per quanto riguarda il nostro territorio e la nostra nazione e così chiudo e vi saluto e grazie di avermi ascoltato. Grazie consigliere, l'ultimo intervento da parte del consigliere Dario Andreolli, Lega, del gruppo consigliere Lega. Grazie presidente, io ho conosciuto Arnaldo Forlani attraverso le parole della mia famiglia di mia madre ma in particolare di mio nonno che nel periodo in cui era sindaco di Piobbico condivideva con lui non solo una comune militanza nello stesso partito ma anche un'amicizia ed una frequentazione fortificata anche dalla presenza del cardinale Palazzini che ricordava il dottor Girelli prima e quindi mi è stato raccontato quando ero piccolo attraverso degli aneddoti familiari personali da quella volta in cui in un pranzo gli rovesciarono per sbaglio una bottiglia di vino e lui era preoccupato del fatto che poco dopo avesse un comizio e ci teneva ad essere presente in forma e nel massimo delle sue possibilità oppure di quelle riunioni fatte nel grande salone di mio zio della sezione della democrazia cristiana dove decidevano un po' le strategie e le varie iniziative che dovevano essere fatte quello stesso salone dove io ho trascorso tutti i natali della mia infanzia più avanti ho capito che queste storie si abbinavano ad una persona che negli anni aveva rivestito tutti gli incarichi più importanti di questa Repubblica la Presidenza del Consiglio la Vicepresidenza il Ministro degli Esteri della Difesa gliene è mancata solo una per 20 voti e lui è stato Arnaldo Forgani è stato un grande protagonista della nostra politica lui è stato negli anni difficili negli anni dove bisognava ricostruire un paese agli inizi della sua carriera politica dove ancora c'era forte e vivo il ricordo di una guerra che era passata da troppi pochi anni per poter essere dimenticata lo è stato negli anni del terrorismo degli anni bui negli anni della guerra fredda a livello internazionale lo è stato negli anni dei grandi cambiamenti sociali e culturali e lo è stato anche negli anni in cui si è iniziato a mettere le basi di quello che era un grande progetto europeo della formazione dell'Unione Europea che all'epoca era vincolata probabilmente su valori fondanti molto più simili a quelli di Ventotene che forse all'Europa di oggi ma che comunque in quegli anni ha formato le basi per poter nascere e quella politica, quelle forze politiche e quegli uomini politici hanno contribuito a tenere insieme le diversità di un paese profondamente diviso e non era facile farlo non era scontato farlo hanno contribuito a garantire la pace nel nostro paese e in Europa e che se a noi oggi ci sembra scontato all'epoca non era affatto così hanno contribuito ad una crescita economica e sociale e culturale di questo paese facendolo diventare una delle più grandi potenze economiche mondiali e anche questo non era affatto scontato ed io credo che per questa ragione a mio avviso credo che dopo 30 anni dalla fine della Prima Repubblica sia necessaria una stagione di analisi storica differente rispetto a quella che abbiamo fino ad oggi vissuto e lo dico da figlio di una generazione che ha incominciato ad interessarsi di politica e a votare sono nato nel 1980 in un'epoca in cui l'esigenza di cambiamento di questo paese era molto forte un cambiamento probabilmente necessario forse doveroso ma che per tanti anni si è accompagnato ad un obbligo ad una volontà di cancellare quasi ogni traccia ad una volontà di offuscare l'esperienza ma soprattutto il valore delle persone quello che abbiamo richiamato proprio all'inizio del nostro incontro di oggi e credo che sia doveroso anche da parte della politica cercare di ricomporre un giudizio storico a 360 gradi serio e severo che non faccia sconti su eventuali responsabilità politiche ma che allo stesso tempo mette in evidenza il valore di merito di quelle scelte che in quel contesto storico come dicevo non erano fatte scontate non erano fatte facili e che hanno contribuito a creare quello che è il nostro paese e credo che sia altrettanto doveroso per queste personalità per i principali protagonisti di quella storia non solo ricordarli attraverso delle intitolazioni doverose, giuste e certamente necessarie ma cercare anche attraverso la creazione di momenti di dibattito della nostra storia per cercare di creare una memoria condivisa e una memoria condivisa non significa avere le stesse idee non significa avere le stesse opinioni su tutto non significa anacquarle ma significa riconoscere che dietro gli altri dietro le diversità ci siano dei valori fondanti che animano l'operato di queste grandi personalità che hanno contribuito in nome della Costituzione di creare il nostro paese ecco io penso che Arnaldo Foglani per questi motivi sia stato un grande uomo di Stato e da pesarese sono orgoglioso che sia stato un figlio della nostra città e della nostra regione grazie consigliere passo ora la parola al senatore Perferdinando Casini con cui faremo questo passaggio di anedoti e ricordi e concluderemo poi anche con un fuori programma che vi svelo tra poco alla fine dell'intervento del senatore vorrei ringraziare veramente dal profondo del cuore Marco Perugini il nostro presidente e Matteo Ricci e se posso aggiungere a loro anche i consiglieri comunali che sono intervenuti precedentemente perché perché non è scontato avere un ricordo così approfondito e così attuale di Arnaldo Forlani oggi mi chiederete perché perché siamo nel 2023 Arnaldo Forlani ha chiuso la sua vita politica 30 anni fa diciamo il vero in un certo senso ha proseguito ha proseguito il suo cammino di vita ma la sua figura pubblica è da tanti anni uscito dai radar e il fatto che ci sia questo approfondimento di giudizio questo ricordo così attuale da parte di chi oggi ha voluto questa seduta solenne del Consiglio Comunale è la dimostrazione di tante cose prima di tutto cari amici diciamo così un paese vive sulla condivisione della memoria i paesi che rimuovono la memoria sono destinati a non avere radici a vivere su suggestioni noi dobbiamo imparare a condividere la memoria e questo non vale solo per le personalità che hanno reso grande la nostra Repubblica ma prima di tutto anche per i fatti che in qualche modo hanno determinato la nostra vita quando in certe occasioni dal 2 giugno al 25 aprile al 4 novembre a volte prevalgono i furori della polemica francamente conoscendo Forlani non come Girelli ma quasi credo che sarebbe il primo forse a dolersi di queste occasioni perse perché pur essendo stato Forlani un uomo di parte ha sempre saputo capire fin dove si doveva fare una politica di parte e dove era necessario far prevalere la visione e l'interesse generale e ho avuto piacere anche e questo perché appartengo al sindacato a quel sindacato che qualcuno abbia ricordato la prima repubblica perché in fondo ricordando Forlani qui in consiglio comunale nella sua città a Pesaro dopo tanti anni del suo ritiro e dopo due mesi della sua scomparsa è chiaro che il suo ricordo si intreccia in modo indissolubile con quella che è stata la storia di una fase del nostro paese che è culminata nel 48 e che è finita sostanzialmente con la fine politica di Arnaldo Forlani e di una generazione importante dei leader politici ecco qua sono dibattuto anche questo era una caratteristica di Forlani era dibattuto tra quello che aveva scritto e quello che doveva dire perché in realtà vorrei buttare via quello che ho scritto però qualcosa delle cose che ho scritto pure merita di essere approfondita per cui cercherò di fare un qualche misto anzitutto consentitemi però di rivolgere un saluto ad Alessandro a Marco a Luigi e vorrei abbinare a loro anche Elio Pasquini che è stato un tradizionale diciamo assistente segretario e amico di Arnaldo Forlani con cui anch'io ho condiviso tanti momenti della nostra giovinezza e voglio dire che credo che sia bello questo ricordo nella sua città perché giustamente forse dopo Rossini obiettivamente perché Rossini sarà in una imperitura in un certo senso ma non c'è dubbio che in termini politici il più importante marchigiano della storia politica è stato Arnaldo Forlani ed era giusto pertanto che si venisse qui oggi a ricordarlo allora vorrei potrei dire tante cose parlare di aneddoti di episodi ma credo che sia giusto parlare della grandezza di Forlani non solo per gli incarichi chi ha ricoperto ma per le caratteristiche politiche che egli ha avuto e devo dire sono stati molto bravi quelli che mi hanno preceduto perché alla fine ognuno con una qualche sfaccettatura ma sono emerse queste cose allora la prima cosa la prima cosa è l'importanza della scuola e della gavetta Forlani era un politico di quelli che crescevano in provincia avevano l'umiltà di imparare e poi scalavano senza sgomitare e senza arroganza tutti i gradini del curso sonorum la sua formazione cattolica democratica lo ha spinto fin dall'inizio al suo impegno qui in questa provincia tradizionalmente rossa la sua passione lo ha portato via via ad assumere funzioni sempre più rilevanti fino ad essere protagonista di una stagione irripetibile che è stata quella della democrazia cristiana allora il primo problema se vogliamo attualizzare il ricordo di Forlani è che purtroppo oggi non c'è più formazione politica non ci sono più le scuole di formazione e purtroppo tante volte constatiamo l'assenza di luoghi di formazione politica la formazione politica si deve intrecciare a un altro elemento l'identità territoriale queste erano le due caratteristiche principali di Forlani Forlani da giovane ammagliato dalla passione politica si butta in politica e dove fa gavetta nel suo territorio oggi se andiamo in giro per l'Italia in molte circostanze chiediamo ma chi è il vostro parlamentare la gente non lo sa non li conosce questa era una cosa impossibile nella prima repubblica guardate ai grandi della prima repubblica Berlinguer Sardo Forlani Marchigiano Moro Puglia Andreotti Roma nessuno di queste personalità pubbliche poteva non avere il suo aggancio territoriale la gente li identificava come espressioni del territorio e questa è una cosa bellissima perché in questi anni tante volte è maturato anche l'antipolitica perché la gente non aveva neanche più un campanello a cui suonare se c'era da arrabbiarsi perché i uomini politici in qualche modo non avevano fatto questa selezione e il più delle volte arrivavano in Parlamento senza neanche sapere perché questo è un punto fondamentale cioè se vogliamo diciamo così cercare di attualizzare anche questa riflessione di oggi la seconda considerazione Forlani era un uomo di partito in un'epoca in cui i partiti erano le forze vitali della democrazia italiana grandi espressioni popolari non meri apparati lideristici luoghi di elaborazione politica non sedi dirittifica per decisioni prese altrove ha sempre pensato che la DC fosse chiamata a servire gli interessi non di una parte ma di tutti gli italiani un partito di centro conservatore ma riformatore allo stesso tempo che aveva contribuito all'indirizzo del paese alla crescita delle istituzioni democratiche allo sviluppo economico e al riconsolidamento del ruolo in Europa del nostro paese è stato prima evidenziato da un consigliere il tema ad esempio dell'alleanza atlantica ricordatevi che sotto la guida politica da parte di Forlani della democrazia cristiana si crea la prima convergenza parlamentare con i comunisti sul tema dell'alleanza atlantica vi ricordate la frase di Berlinguer in qualche modo che si stava più tranquilli sotto l'ombrello della Nato quella in fondo fu anche la grande capacità di far maturare nell'opposizione delle opinioni condivise sul tema dell'alleanza atlantica d'altronde Berlinguer è il fautore di che cosa dell'eurocomunismo l'eurocomunismo che cos'è è il tentativo di far crescere la sinistra nell'ambito di una solidarietà atlantica cioè abbandona l'idea di un'alternativa di sistema legata all'unione sovietica e cerca una via europea della sinistra questo grazie anche a convergenze che maturano in sede parlamentare con un famoso documento sulla Nato a cui è stato fatto riferimento e a cui io vorrei associare un ricordo di un'altra grande personalità della democrazia cristiana che stimava molto Forlani e che era anche stimato da Forlani che è il nostro presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano che fu uno di quelli che nel partito comunista lavorò di più perché si creasse un rapporto sul tema dell'alleanza atlantica con i partiti allora della maggioranza Forlani ha sempre ritenuto che Churchill avesse ragione cosa diceva Churchill Churchill diceva che l'alternativa ad avere alleati scomodi e non averli affatto e Forlani li ha sempre ricercati questi alleati e sull'onda degasperiana ricordatevi che quando la DC aveva la maggioranza assoluta e degasperi poteva fare a meno delle alleanze le andò a cercare le alleanze perché capiva che la solitudine in politica poteva essere molto pericolosa Forlani difese più di ogni altro la collaborazione tra la democrazia cristiana i partiti laici e il partito socialista negli anni dello scontro tra Craxi ed Emita svolse un ruolo di cerniera fondamentale per la governabilità del paese spendendosi in seguito per creare anche in Italia le condizioni di un bipolarismo in grado di far fronte ai nuovi problemi posti dalla fine della guerra fredda e dall'inizio della globalizzazione ero ambidestro tiravo bene sia con il destro che con il sinistro ricordava del suo passato di calciatore senza dubbio una metafora calzante del suo modo di intendere il ruolo dell'ADC come ogni altro grande uomo ha avuto successi e anche momenti di profondo sconforto di solitudine e di isolamento provenienti a volte dall'interno del suo stesso partito ma mai è stato sfiorato dall'idea di andare altrove o di proseguire il suo impegno secondo sotto una bandiera che non fosse quello dello scudo crociato per la sua cultura per la sua intelligenza politica per la sua umanità egli è stato però sempre amato e rispettato non solo da coloro che ne condividevano idee e ispirazioni ma anche da tanti avversari politici che hanno sempre intuito quanto il suo essere uomo del dialogo non attenuasse di nulla la forza della sua convinzione cioè lui non è che fosse un uomo che si ammorbidiva più di tanto era molto chiaro nella difesa dei suoi principi ma molto attento al dialogo anche con gli avversari politici anche questo credo che sia un elemento importante parliamoci chiaro oggi c'è un po' eccesso di cannibalismo politico anche in circolazione un po' da tutte le parti diciamo la verità per cui forse un tasso di rispetto in più sarebbe necessario e auspicabile di cui la terza fondamentale lezione il valore intrinseco della mediazione e l'idea della politica come sensore privilegiato dei bisogni della collettività la sua capacità di dialogare di mantenere sempre la linea dell'equilibrio non è mai stata dettata da una vuota aspirazione alla conservazione del potere essa è stata invece lo strumento primario per conseguire la sintesi delle diversità e riportare così al centro la politica intesa nel senso più elevato e i suoi contenuti a volte ci sono state critiche cui Forlani ha dovuto far fronte per questa sua disposizione all'ascolto e al confronto giudizi ingenerosi soprattutto alla luce di una politica che troppo spesso si chiude nei limiti angusti della polemica gratuita dei contrasti ideologici delle pregiudiziali personali della sistematica e sterile opera di delegittimazione dei suoi avversari grazie alla mediazione intesa come metodo Forlani è riuscita a ricomporre negli anni fratture spinte centrifuge all'interno del suo stesso partito rappresentando un punto di riferimento autorevole e prestigioso per tutti con la sua compostezza spesso criticata ci ha insegnato il senso relativo del potere e delle cariche guardate questo è un punto fondamentale che cosa ho imparato io da Forlani ho imparato che non siamo padroni del nostro destino che bisogna imparare anche tra di noi a non prenderci troppo sul serio di avere quel senso di autoironia e poi vi citerò un episodio concreto il più delle volte il frenetismo che caratterizza i politici a cui lui era del tutto alieno e anzi molto insofferente mi ricordo anche quando io all'inizio che era un po' dinamico diciamo così l'oppressavo a volte capivo proprio che gli davo fastidio perché lui era abituato a pensare e a pensare e poi a decidere tutto il frenetismo e che gli mettevamo perché ci doveva dire una cosa importante perché la cosa era urgente lo infastidiva perché aveva proprio questo senso del limite per molti Forlani era un politico indolente io vi debbo essere sincero 30 anni fa se avessi dovuto fare questo discorso avrei avuto il dubbio che lo fosse oggi dopo 30 anni sono sicuro che non lo è stato perché anch'io ho potuto capire in questi 30 anni con la mia esperienza politica quanto io ero inadeguato e quanto Forlani invece aveva capito molto più di noi che non eravamo in grado probabilmente di capire che un certo tipo di approccio alla politica era autolesionista è stato definito coniglio mannaro o tigre che dorme ma quanti di noi lo hanno conosciuto da vicino sanno bene che soprattutto era un uomo brillante ironico autoironico soprattutto in privato sempre pronto alla battuta con quel suo accento marchigiano accennato ma inconfondibile era un politico abituato a riflettere e a ragionare prima di agire per lasciare che dubbi e problemi arrivassero a decantazione ma era anche capace di graffiare quando era il caso non era affatto accondiscendente discuteva attento alle ragioni degli altri anche nella durezza dei contrasti ma piantava paletti molto chiari e quando c'era la necessità di difendere valori e ragioni importanti era inflessibile perché fieramente ancorato a convinzioni forte e profonde prova ne fu il patto di San Ginesio nel 1969 sottoscritto con Demita per favorire un ricambio generazionale alla guida della DC e ridare nuova linfa al partito io questa sera ma questo non c'entra vado a presentare il mio libro a San Marino e nel portarmelo questa mattina dietro aprendo le pagine di Forlani ho a proposito di questo di cui sto parlando ho ricordato ho ricordato a proposito delle convinzioni profonde di Forlani elezione del presidente della Repubblica viene da me episodio autentico Gianfranco Fimi segretario del movimento sociale italiano lo ricevo a casa mia ricordo che abitavo allora in via Clitunno 14 mi dice qui è attivo il partito androttiano Andreotti voi sapete adesso pace all'anima sua gli abbiamo voluto bene Andreotti aveva la corrente androttiana in tutti i partiti dell'arco costituzionale cioè c'erano gli androttiani del PC che erano di giuglio gli androttiani del movimento sociale gli androttiani del partito liberale gli androttiani dei socialdemocratici cioè lui aveva una sorta di corrente trasversale e in quel momento tramite l'onorevole Passaglia erano già attivi gli androttiani del movimento sociale perché Andreotti era uno dei più autorevoli candidati alla presidenza della Repubblica Gianfranco Fini mi dice Pierferdinando avevamo un'amicizia che poi sarà diventata più intensa successivamente perché non c'erano state ancora le cose il polo però insomma lo conoscevo bene perché era stata al liceo mio al liceo Galvani di Bologna eravamo venuti tutti e due di Bologna mi dice Pierferdinando io ti porto tutti i voti del movimento sociale su Forlani però c'è un però noi non siamo il movimento sociale sbrindellato che c'è stato in questi anni noi vogliamo che Forlani ci chieda i voti se Forlani ci chiede i voti noi votiamo compatti non c'è un franco tiratore cercai di negoziare una subordinata e poi mi disse Gianfranco mi disse guarda Pierferdinando sono leale non cercate scorciatoi di andarci a prendere dei voti di franchi tiratori nostri io te li porto tutti ma voglio che Forlani faccia un riconoscimento politico ma dico Gianfranco non potrà mai fare un riconoscimento politico non mi interessa il riconoscimento politico mi interessa che almeno ce li chieda che ci chieda i voti che si rivolga a tutti la largo costituzionale compreso il momento sociale ci chieda i voti erano le tre del pomeriggio alle quattro mi precipito a Forlani non mi ha fatto finire la frase cioè quest'uomo che di lì a poco per venti voti non è stato eletto presidente della repubblica non mi fece finire la frase questo riconoscimento politico non glielo darò mai e io andai indietro con le pive nel sacco erano periodi cercate di contestualizzarli però per dire come Forlani che era considerato appunto uno a volte era inflessibile sui principi soprattutto quando lo riguardavano personalmente perché sarebbe stato in fondo io sarei stato un po' più accondiscendente adesso a pensarci bene ma comunque è passato è passato tanto tempo l'ho ricordato per dire di uno stile rigoroso avverso qualsiasi forma di personalismo e di atteggiamento profondamente rispettoso verso la cosa pubblica vicenda Quiridale 1992 Forlani viene diciamo così azzoppato per 29 voti i 29 voti ma non è che questo adesso non interessa qua un giorno se qualcuno voglia di ne parliamo ma i 29 voti avevano nomi e cognomi erano soprattutto targati democrazia cristiana parliamoci chiaro assisto con Giuliano Amato e altri due o tre probabilmente Elio nella sala vicino a piano aula a questo spoglio ci accorgiamo subito che mancano i 29 voti insomma alla fine lo accompagno a casa chissà perché lo accompagno a casa tra parentesi un viaggio angosciante perché incomincia a parlare dell'Inter cosa che non c'entrava assolutamente niente era decontestato lui era un grande tifoso dell'Inter ma era chiaro che voleva parlare di altro io dietro lui davanti in macchina era solito andare a passo d'uomo in macchina ma quel giorno lì diciamo così il viaggio fu ancora più lento del solito e dal centro dovevo andare all'Eur perché viveva e ha vissuto sempre all'Eur arriviamo in giardino aveva un cane lupo credo allora almeno o non lo so se non era un cane lupo però c'era un cane cera un cane cera come vabbè ho capito ho sbagliato la tipologia di cane non sono un esperto però lui comincia a giocare con sto cane io non sapevo che cavolo fare non c'entravo niente allora gli dico presidente ma scusi allora domani mattina ritentiamo lui mi guarda e mi fa ha così non hai capito niente in paradiso rispetto dei santi non ci si va io non voglio mettere me stesso in mezzo alle cose noi dobbiamo trovare una persona che allarga e in questo modo sostanzialmente lui evitando di insistere con la presentazione della sua candidatura anche in quella circostanza che era una circostanza in cui probabilmente si sarebbe potuto anche arrivare all'esito definitivo dimostrò ciò che era stato sempre cioè una persona che mai aveva fatto e ho anteposto le sue ambizioni personali all'Italia e alla democrazia cristiana infine voglio dire una cosa su un tema che non si può non non accennare quando si parla di Forlani Forlani è segretario della democrazia cristiana nel mezzo del ciclone di Tangentopoli viene chiamato dal magistrato non sta bene e qui ci sono persone che possono testimoniarlo e pur tuttavia per non sentirsi dire che voleva rinviare l'interrogatorio si presenta l'interrogatorio dove viene aggredito da Di Pietro e sostanzialmente beve la cicuta di una condanna che finisce paradossalmente per gli incidenti che nella storia esistano per gravare su una delle pochissime persone che per riconoscimento unanime di avversari e di amici non si era mai approfittato della politica come purtroppo tanti altri in quelle circostanze storiche non potevano dire questo fu la metafora della vicenda di Forlani Forlani fu ed espresse sempre una grande una grande fiducia nelle istituzioni e nella giustizia non poteva fare altrimenti ma per tutti per quasi tutti gli uomini delle istituzioni tutti noi avevamo chiaro che il pallino della storia si era fermata su una delle poche persone che mai aveva si era servito della politica ma che l'aveva sempre servita autenticamente con spirito di servizio e devo dire che questo è un paradosso della storia ma è termino e vi chiedo scusa se sono stato un po' lungo ma la passione mi ha coinvolto e devo dire dopo questa vicenda emerge un aspetto che tutti anche hanno notato lo stile di quest'uomo la sua capacità di non essere ingombrante sappiate che in questi trent'anni decine di giornalisti gli hanno chiesto di dire di fare di brigare voi non avete sentito una parola fuori posto da parte di Arnaldo Forlani e ne avrebbe potuto dire tante proprio per questo senso di lealtà verso lo Stato e verso le istituzioni Stato e le istituzioni che comunque tanto gli hanno dato perché come è stato è stato giustamente detto è stato presidente del Consiglio ministro degli esteri ministro della difesa vicepresidente del Consiglio a e poi soprattutto segretario della democrazia cristiana in un'epoca diciamo in cui essere segretario della democrazia cristiana era una cosa un pochino particolare dunque cari amici caro sindaco caro presidente del Consiglio Comunale mi sembra stato molto appropriato questo vostro ricordo e devo dire lo ha detto Girelli e lo ripeto in conclusione anch'io il lutto nazionale i funerali di Stato restituiscono a Forlani gran parte di quello che lui ha dato a un paese che ha servito con lealtà con serietà e con senso delle istituzioni grazie davvero senatore la sorpresa è un po' per tutti e invito qui a fare un breve intervento un saluto il nostro artista e poeta dialettale pesarese Carlo Pagnini che coglierei con un applauso grazie 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 va bene così io penso di sì perché se alzi di più non ci arrivo grazie molti di voi non capiranno quello che dico perché è il linguaggio di Pesaro della città ma il presidente lo capisce è io che sono un po' preso dalla follia ogni tanto scrivo delle idee che mi vengono tenendo presente che molti dicono che siamo tutti fratelli addirittura non amici fratelli dopo anni la faccia capì coco di sta parola però io credo che il presidente sia qui tutte le volte che ho letto questo breve testo è stato con me a Roma Villa Miani Villa Ada Castel Sant'Angelo quando mi chiamava per rappresentare la città Pesaro con la famiglia marchigiana gli incontri della famiglia marchigiana allora stasera naturalmente dedicata a lui fra poco lo andrò ad incontrare e rideremo per tutta l'eternità perché non ho l'età sua ma ne ho 95 compiuti e questo è il mio pensiero sugli amici gli amici amici ha sentito quello che dice la gente fesce un amico non c'è vuoi niente sia da vecchio o da ragazzo trova amici di tutte le razze qui della scuola di soldati qui dell'inverno qui di stelle c'è gli amici si fa del barbire un'altra volta si ne trova in giro all'asilo tra i fiolini nelle case e in quei lenti in tibar in tel lavoro perfino quando si fa l'amore proprio senza esagerare senza amici nessuno poste perché qui chi è un po' trovai sia la gente in sacervei dato che con gli amici in giro è più facile del respire l'intoppe sull'imbarazzo di capelli e se amici fosse questo in tel libro le parole si pudri anche a scancellare ci sarebbe da guadagnare qualche amico che non ha bisogno di niente prima di tutte le maldicenti poi e ti trova un scolto di fette e ti manca di rispetto l'ignorante l'ipotente non ti fa parlare per niente e se ne frega la fette del male se con lo sa la sua cervella dire da giudicare come ti si da comportare se qualcuno invece l'ha bisogno e ti cambia come un sogno e ti liscia e ti dà la mente e ti parla dolce pieno pieno e ti tira sul moreno come te non c'è un altro uguale si è istruito si è intelligente ma purtroppo ti ha un gran talento e si potrà considerare un amico ma una che si e di questi c'è un milione ma un amico e birbocion gli amico era che si stava bene tutte le volte che si trova insieme sempre pronta a perdonare i difetti che ognuno può avere privi di tutto di ogni interesse non fa mai nessun processo e la gioia o del dolor e anche il sentimento come more grazie 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 bellissimo grazie che bella sorpresa che sei fatta bravissima bravissima bellissima quasi quasi tutto vi avevo assicurato la sorpresa del fuori programma spero di esserci riuscito detto questo all'inizio chiaramente un po' l'imbarazzo devo fare anche io un po' i conti con la fretta e con le virtù del presidente Forlani della discrezione della prudenza cose su cui devo lavorare e dobbiamo lavorare in tanti devo dire però sono stato molto onorato di aver aperto e condotto moderato se vogliamo così così questo consiglio comunale in questo momento abbiamo anche un altro punto all'ordine del giorno che vi chiedo con pazienza di assistere e spero ne siate anche voi orgogliosi perché quest'oggi abbiamo come secondo punto all'ordine del giorno una votazione molto veloce ma il subentro di una nuova consigliera comunale io penso che nel luogo simbolo della democrazia cittadina assistere a questo momento in una giornata così importante penso lo riteniate una cosa bella è felice quindi e con devo prenderla delibera perché da presidente devo fare quello votiamo e discutiamo la dichiarazione di elezione alla carica di consigliere comunale della signora Nicoletta Rossi a seguito della sopravvenuta vacanza di un seggio di consigliere comunale abbiamo quindi verificato le cause di compatibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale e prima di mettere in votazione chiedo se ci sono degli interventi non ci sono interventi chiedo ai consiglieri presenti di votare la sudetta delibera favorevoli contrari astenuti il consiglio comunale approva all'unanimità è anche richiesta la votazione dell'immediata eseguibilità così che la consigliera Nicoletta Rossi possa prendere parte ai lavori consigliari da subito favorevoli contrari astenuti e con particolare orgoglio e felicitazioni che auguro buon lavoro alla consigliera Nicoletta Rossi che ci raggiunge in un cammino insomma già partito ma ancora pieno di grande lavoro e soddisfazioni concludo e ringrazio nuovamente ringrazio la famiglia ringrazio le autorità che mi scuso di non aver salutato prima signora perfetto per tutti senatore dottor Girelli grazie grazie davvero a tutti proseguiamo la nostra pomeriggio alla messa in Duomo che sarà le 18.30 quindi siamo perfettamente in tempo grazie